Circa 200 persone hanno preso parte in Valsusa alla passeggiata nottav del dissenso da Giaglione al cantiere di Chiomonte. Giunti davanti alla cancellata metallica, un gruppo di attivisti ha danneggiato la struttura di recinzione utilizzando seghe elettriche e cesoie. 38 le persone identificate e 12 quelle denunciate per danneggiamento e in ottemperanza al foglio di via già emesso per analoghi episodi avvenuti appunto a Giaglione e Chiomonte. Ed è polemica sull'annunciata partecipazione della città di Torino alla manifestazione nottav dell'8 dicembre. Il gruppo PD in Sala Rossa chiede spiegazioni alla sindaca Appendino. Osvaldo Napoli, Forza Italia, le chiede di uscire dall'ambiguità. Maurizio Marrone e Augusto Montarulli, fratelli d'Italia, parlano di sfregio istituzionale.